Io posto di app per ricorrenti e cronici, continuo sempre a vedere una o due app per la lingua nel cavorale. Allora innanzitutto bisognerebbe sapere che lei non abbia una carenza di vitamina B, perché questo succede in persone che hanno una carenza di vitamina B, quindi lo investighi, può anche dosarla o comunque anche ex juvantibus può prendersi della vitamina B anche ad alte dosi per 2-3 mesi e vedere se va meglio. In ogni caso la vitamina B non si accumula mai, quindi anche se ne assumiamo in eccesso viene eliminata. Altrimenti le afte ricorrenti e multiple possono capitare a persone che hanno malattie intestinali, quindi anche lì cercare di capire se c'è una correlazione. Di fronte a afte da causa ignota, quindi non sappiamo perché sono venute, io con alcuni presidi di omotossicologia riesco a diminuire la frequenza delle afte. Se avessi invece delle afte voluminose molto dolenti, io ho visto che con la laser terapia è incredibile, in 24 ore si riescono a fare quasi regredire del tutto e quindi quello è veramente un rimedio incredibile. Quella è laser terapia, low level laser therapy o biomodulazione. Comunque di cose da fare ce ne sono, ovviamente prima va capito perché le vengono. La ragione diciamo di... Eh sì, prima sempre la causa.